I giochi sono finiti eh, perché sono terminate le amichevoli e da questo momento in poi è arrivato il momento di fare sul serio. Se io penso che sabato prossimo ci sarà l'esordio della nazionale italiana all'europeo ragazzi, c'ho un insieme di sensazioni che adesso non sto qui a spiegarvi perché ci vorrebbe un contenuto dedicato. Qui parliamo di Italia Bosnia di quest'ultima amichevole della nazionale italiana dove Spalletti ancora una volta ha voluto stravolgere, sperimentare, provare però anche secondo me è riuscito a tirare fuori qualche ragno dal buco. Qualche indizio Spalletti in vista dell'europeo secondo me adesso ce l'ha. Sicuramente anche noi no? Abbiamo gli occhi un po' più aperti su alcune situazioni con le dovute proporzioni scusatemi del caso eh, perché se andiamo a confrontare questa amichevole con quella precedente in realtà ragazzi... Buon calma bentornati e ben ritrovati. Fan caldo di quelli pazzeschi, non ce fate caso, poi sta stanza diventa una fornace. 3000 gradi Fahrenheit. Lasciate mi piace se volete anche in merito il parere del buon Fabio, ma soprattutto se volete anche la prediction del buon Fabio sull'europeo imminente. Io l'ho fatto già oggi, anzi se siete interessati andate a recuperare quel contenuto. Mi raccomando seguitemi e attivate le notifiche cliccando sulla campanella per restare sempre aggiornati, così non vi perdete più nulla dei miei video. Un altro canale di calcio oltre questo, tutti i giorni bombe di calcio mercato e un canale extra calcio, oggi è uscito un video molto particolare. Vi lascio tutti i canali di Infobox come sempre compariranno qui durante il video. Perché dico con le dovute proporzioni del caso ragazzi? Io come sempre mi vado a spulciare il ranking, non mondiale. In questo caso ragazzi parliamo di ranking europeo, di squadre europee. E ovviamente, ragazzi, chi segue un minimo il calcio sa che ad oggi Turchia e Bosnia non si possono paragonare. La Turchia ad oggi è nettamente superiore, lo dice il ranking delle squadre europee, è al nono posto. Vi ricordo che noi siamo pur sempre secondi ad oggi nel ranking europeo, mentre la Bosnia ragazzi è al 39esimo posto. Io vi dico solo che sta a livello con lo stesso ranking del Liechtenstein, che le farò verrà addirittura solo una posizione sopra al 38esimo posto. Lettonia sopra, Armenia sopra, Kazakhstan sopra, Moldavia sopra e Azerbaijan addirittura. Quindi, giusto per farvi capire la... Mamma mia, stavano per segnare manca a minuto ragazzi, stava per far pareggio a Bosnia, che questi veramente nel secondo tempo hanno fatto un cazzo e c'è da dirlo. Adesso entriamo anche nei meriti della partita. Prima però, Spalletti ancora una volta stravolge dal punto di vista dei calciatori che manda in campo, e credo che sia giustissimo fare una cosa di questo tipo, perché bisogna dare la possibilità, bene o male, a tutti gli effettivi che ti sei portato, anche per vedere in una partita, in ritmo partita, chi è che tra una settimanella scarsa potrebbe stare anche meglio rispetto ad altri. È anche una questione dei rispetto nei confronti dei calciatori che ti sei portato. Quindi, da quel punto di vista sono d'accordo. Un po' meno d'accordo dal punto di vista del modulo, per quanto poi, se non sperimenti nelle amichevoli, ma quando sperimenti, oggi ti ripropone una difesa a tre, però sempre, sempre con due mediani davanti alla difesa. L'altra volta ha fatto 4-2-3-1, a sto giro ha fatto 3-4-2-1, che qualcuno mi dirà eh, ma poi con gli atteggiamenti, una cosa e un'altra, abbassi solo un esterno, eh, bene o male lo puoi trasformare in una sorta di 4-2-3, quello che cazzo vi pare, ragazzi miei, però comunque c'avevi effettivamente, ragazzi, diciamo dai, tre centrali di difesa, perché poi gli esterni sono partiti sulla sinistra Cambiaso e sulla destra Bellanova, De Braccetti, che ha la fiori da una parte, tra il mia e dall'altra, quindi capite bene, no? Comunque Spalletti che vuole continuare, ecco mettiamola così, a sperimentare, fino all'ultimo vuole prendersi tutto il suo tempo. Una cosa va detta, che stasera, ok, Bosnia è inferiore alla Turchia, ma perlomeno stasera abbiamo visto sprazzi di buon calcio, cioè io per la prima volta da quando Spalletti allena la nazionale italiana, questa sera ho visto una nazionale che, a tratti, sembrava sua immagine e somiglianza. Le situazioni, le occasioni, gli scambi rapidi, le verticalizzazioni, due passaggi e parecchie volte frattesi, no? Si è ritrovato in situazioni molto molto interessanti, anche in realtà la situazione del gol. Questo mi fa stare un po' più tranquillo in vista dell'europeo. Continuo a pensare che secondo me siamo ancora un po' indietro rispetto ad altre realtà del nostro livello più rodate. Questa è l'impressione, la percezione che ho. Qualche piccolo passo avanti è stato fatto, non so, curioso di sapere, se alla fine Spalletti adotterà a difesa 4, a difesa 3, o seppure in base all'avversario di partita in partita deciderà di cambiare. Sarebbe una cosa anche abbastanza clamorosa, eh? Perché secondo me bisogna sempre partire da una base e la base della difesa 4 o a 3 ti può cambiare un minimo gli atteggiamenti, gli atteggiamenti tattici. Come sempre qualcosa la concediamo. Questa è una delle cose che dobbiamo, secondo me, anche un po' correggere. Calafiori, se non sbaglio, su quella grande... Donnarumma ha fatto un miracolo. E io continuo a pensare che alla fine della fiera sarà lui il titolare, ribadisco di... eh sì, di Gregorio, buonamente. Vicario, Vicario, l'altro giorno mi sono sbagliato, ho detto Viviano, chiedo scusa, chiedo Venia, mi confondo perché quello fa la Kings League, questa... ci sto a capincazzo. E Donnarumma comunque, ragazzi, secondo me è la base di questa nazionale italiana, no? Se Spalletti c'ha qualche dubbio, comunque lui ti mette ste parate, te fa ste pezze, ragazzi miei. E credo che Spalletti alla fine vada per quella... per quella direzione. Un'altra situazione interessante su calcio e punizione. Donnarumma abbastanza in controllo. La Bosnia, però, ragazzi, non era partita malaccio, diciamoci la verità. Per quanto noi, comunque, siamo sicuramente stati all'altezza della situazione. Abbiamo creato un bel po' di occasioni interessanti. La cosa che più in assoluto mi è piaciuta di questa nazionale italiana è quello Scamacca, lì davanti, che in tandem con Frattesi, in tandem in realtà un po' con tutti i calciatori offensivi del caso, e la partita finisce in questo momento, quindi ce la portiamo a casa, ha dato l'impressione, ragazzi, di essere quello che Spalletti andrà a considerare come l'attaccante titolare di riferimento. Non me ne voglio Areteghi, ma ad oggi, ecco, con questa prestazione di Scamacca, per quanto quella con la Turchia, no, era più difficile da partita, ma secondo me, ragazzi, il lavoro che ti fa Scamacca dal punto di vista anche del sacrificio per come poi fraseggia rapidamente con gli altri calciatori che hai intorno ad oggi in certe paragone. E anche questo Scamacca ai livelli dell'Atalanta, mo' speriamo di non gufagliela perché era un amichevole, potrebbe essere un qualcosa che mi fa stare più tranquillo. Quindi questi sono i segnali secondo me più importanti. Dal punto di vista della difesa dobbiamo registrare qualcosa, dal punto di vista del giropalla, della fluidità, mi sembra, ribadisco, una nazionale più di Spallettiana memoria. Frattesi è inutile, terzo punto fermo, Cardine, ragazzi, ad oggi uno come Frattesi, che poi leggevo un dato statistico clamoroso da quando è arrivato Spalletti, Frattesi in sei presenze con Spalletti ha fatto quattro gol. I classici giocatori che Spalletti te mette sulla tre quarti e che poi con le capacità di inserimento che c'ha uno come Frattesi poi ti risolvono la questione, ti risolvono assolutamente la situazione. Frattesi è imprescindibile. Tu ad oggi non puoi, vedendo anche questa ennesima partita, tu ad oggi Frattesi lo devi considerare un titolare. Anche per come fraseggia in realtà con Scamacca, cioè in generale mi sembra il calciatore che ti può creare quella superiorità numerica in più, che ti crea lo spazio, l'inserimento, la dinamicità all'interno dei dettami. Quindi bellissimo il gol, ma già c'ha avuto un'altra paio di occasioni, ribadisco quell'azione con buongiorno ragazzi per Scamacca, tiro al volo, parata, miracolo del portiere della Bosnia. Scamacca c'ha un'unica responsabilità, si è mangiato un gol abbastanza semplice, ma Scamacca è così, fa solo gol assurdi, i gol più facili si rimagna e anche in quello deve migliorare, perché secondo me pecca di sufficienza in quelle situazioni. Cioè quando è troppo sicuro di buttarla dentro ha sbaglia, quando magari dentro di sé è insicuro ma c'è bravo stesso, magari si inventa il gol della vita. In vista dell'europeo ragazzi quando ti capitano situazioni come quella che è capitata a Scamacca non ti puoi permettere di sbagliare. Questo è un punto negativo, perché in un europeo veramente ogni spiccio di occasione che ti capita, devi capitalizzare al massimo, perché le perdi le partite. Te mangi in gol del genere in una partita ufficiale, con tutto rispetto per la Bosnia ribadisco, Croazia, Albania e Spagna. Te mangi in gol del genere in una partita dell'europeo, ribaltano il fronte e te lo buttano al culo. Scusate il francesismo ma volevo enfatizzare il momento. Secondo tempo ragazzi, abbiamo sprecato anche con altri in realtà, e Donnarumma comunque ragazzi, non mi ricordo, sì l'ho detto di Donnarumma, che comunque nei momenti clou ragazzi è presente e la pezza te ce la mette, quindi anche Donnarumma da quel punto di vista è importante. Ribadisco, segnali positivi, incoraggianti, ma oggi era amichevole, fino ad oggi abbiamo scherzato, la realtà dei fatti, cioè la vera nazionale italiana, quella moscia spenta che abbiamo visto contro la Turchia e questa dinamica più fresca, più vogliosa vista contro la Bosnia, quale delle due per quanto poi hanno giocato praticamente, i giocatori diametralmente hanno fatto giocare praticamente tutti e con due moduli diversi. Qual è l'Italia dell'europeo? Secondo me è sempre la via dei mezzo e quindi brutta prestazione nella precedente, bella in questa, stiamo sempre là secondo me. Voglio sapere la vostra qua sotto nei commenti. Vi ringrazio per la visione di questo contenuto e come sempre ci vediamo alla prossima con un nuovo video.